Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web List del Consiglio regionale della Basilicata. Una conferenza regionale sul tema della sicurezza del lavoro, l'avvio di una interlocuzione più stringente con l'Ispettorato del lavoro regionale, la promozione di campagne di sensibilizzazione e la promozione di iniziative per la diffusione della cultura del lavoro sicuro presso gli istituti scolastici superiori. E' il cuore della mozione presentata da Leggieri, Perrino e Giorgetti del Movimento 5 Stelle approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Tra gli impegni sollecitati al Governo regionale, quello di relazionare annualmente in Consiglio regionale sulle condizioni di sicurezza riscontrate nella nostra regione. Si ha l'unanimità anche per la mozione presentata da Polese e sottoscritta da Cifarelli, Pittella, Braia e Trerotola, con la quale si chiede che sia garantito il servizio di ginecologia medica presso il carcere di Potenza e che si finanzi l'acquisto dell'attrezzatura per la panoramica dentale. Con la mozione denominata Ridare una possibilità alla vita, si richiamano i progetti di collaborazione attuati tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Basilicata, volti al miglioramento delle condizioni carcerarie. Una struttura che vanta macchinari di ultima generazione e personale altamente qualificato, con il risultato di essere primi in Basilicata e nel Meridione nella sperimentazione di sistemi robotizzati che stimolano attività cognitive e sensoriali dei pazienti. A sottolinearlo il Presidente della Quarta Commissione, Zullino, dopo il sopralluogo presso il Centro Don Michele Gala della Fondazione Don Gnocchi. Ai responsabili parole di ringraziamento per come pongono al centro della loro azione la persona. La tecnologia 5G è solo un'autostrada che, senza gli investimenti imprenditoriali, rischia di rimanere un'ulteriore opportunità persa. Lo ha affermato durante un convegno sul tema il consigliere di Forza Italia a Cito. Ciò che serve, ha sottolineato, è una strategia meridionale che punti alla costruzione di un sistema di attrazione degli investimenti che utilizzi la tecnologia. Una parte delle royalties e la programmazione comunitaria 2021-2027 possono diventare opportunità per fare della Basilicata il traino per la nuova economia dell'intero mezzogiorno. Un'occasione per la Basilicata che da tempo attende risposte concrete per crescere grazie alle risorse importanti che offre. È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata a Cicala partecipando alla riunione del Comitato di coordinamento e monitoraggio del programma operativo Valdagri. Apprezzo questa nuova fase, ha sottolineato, che affronta con responsabilità il tema del petrolio in relazione al territorio, ai cittadini e allo sviluppo dell'intera area. La riunione in Valdagri, preseduta da Bardi, segna per noi un importante risultato. Così, il consigliere regionale della Lega, Aliandro, che evidenzia il protagonismo del tavolo, i sindaci di 35 comuni che fanno parte del programma operativo Valdagri. Enorme soddisfazione per i risultati ottenuti, ha rimarcato, con la conferma della somma di 35 milioni di euro fermi da due anni aspettanti ai comuni interessati. Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Giuliano ha portato all'attenzione della Quarta Commissione Consiliare i temi relativi alla promozione della tutela dei bambini e degli adolescenti lucani. Dopo aver fatto riferimento alle difficoltà legate ai trasporti vissute da alcuni bambini di Moliterno, il Garante ha sollecitato la definizione di un accordo di programma per l'inclusione scolastica degli alunni disabili. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento e per la prossima edizione. Grazie.